Sono 698 in tutta la Toscana, 36 a Firenze, i seggi allestiti per le primarie aperte del Partito Democratico che si tengono domani. 4.000 i volontari in servizio, 4 i candidati. In Toscana infatti si vota, come nel resto d'Italia, per eleggere il segretario nazionale del partito. La scelta è fra i due che hanno ottenuto più voti dopo la prima scrematura fatta dagli iscritti, Stefano Bonaccini e Elislein. Ma il PD regionale deve eleggere anche il suo nuovo segretario. In questo caso non c'è stata una prima tornata tra gli iscritti perché i candidati erano solo due. Si tratta di Valentina Mercanti per la mozione Bonaccini e Emiliano Fossi per quella di Elislein. È possibile anche il voto disgiunto. La scelta è aperta a tutti coloro che hanno compiuto 16 anni. Ma i cittadini in età compresa fra i 16 e i 18 anni, gli studenti e i lavoratori fuori sede, gli stranieri residenti in Italia e chi non è residente in Toscana doveva preregistrarsi online sul sito Primarie PD 2023 entro mezzogiorno di ieri. Si vota dalle 8 alle 20 di domani al proprio seggio di residenza. Rintracciabile al link trovaseggio.primariepd2023.it Occorre presentare un documento di identità e versare 2 euro se non si è tra gli iscritti del PD. In ogni caso, votando, si accetta la registrazione all'interno dell'albo degli elettori del Partito Democratico. Con il voto ai candidati di domani si eleggono anche i 274 componenti dell'Assemblea regionale e i 43 toscani delegati all'Assemblea nazionale.